Capitolo diciassettesimo Lo straordinario volo dell'Alce Quando i compagni d'avventura si ritrovarono sul tetto, constatarono di aver raccolto un incredibile assortimento di oggetti tra i più strani. Nessuno sembrava avere un'idea chiara di ciò che era necessario, ma tutti avevano portato qualcosa. La cimice aveva tolto da sopra il camino nella grande entrata una testa di Alce con delle enormi corna e l'aveva portata con molta attenzione e fatica su per le scale fino al tetto. Quest'Alce aveva un aspetto insolito. Il naso era rivolto all'insù in modo impertinente e sul mento aveva la barbetta tipica di un caprone. La cimice non sape dire perché l'avesse scelta, semplicemente ne era rimasta incuriosita. Tip, con l'aiuto del cavalletto, aveva portato sul tetto un grande sofà imbottito. Era un mobile un po' antiquato, con alti braccioli e schienale, ed era così pesante che anche appoggiando il peso maggiore sulla schiena del cavalletto, il ragazzo si trovò senza fiato quando alla fine il vecchio sofà fu scaricato sul tetto. Testa di zucca aveva portato una scopa, che era stata la prima cosa che aveva visto. Lo spaventapasseri arrivò con un rotolo di corda per stendere i panni, che aveva preso dal cortile, e mentre saliva le scale si ingarbugliò talmente tanto da ruzzolare sul pavimento, e sarebbe sicuramente finito in fondo alle scale se Tip non fosse riuscito a fermarlo. Per ultimo venne il boscaiolo di latta. Anche lui era stato nel cortile, dove aveva tagliato quattro grandi foglie dall'enorme palma, che era l'orgoglio degli abitanti della città degli smeraldi. «Oh mio Dio!» esclamò lo spaventapasseri, vedendo ciò che aveva fatto l'amico. «Sei colpevole del più grave crimine che si possa commettere nella città degli smeraldi. Si ricordo bene la pena per aver tagliato delle foglie dalla palma reale e di venire ucciso sette volte e poi essere imprigionato a vita.» «Non posso più rimediare a ciò che ho fatto», rispose il boscaiolo di latta, gettando le grandi foglie sul tetto. «Inoltre, sarà una ragione in più per fuggire. E ora vediamo un po' che cose mi avete portato per lavorare.» Furono molti gli sguardi dubbiosi gettati su quell'ammasso di cose strane radunate sul tetto. E infine lo spaventapasseri scosse la testa e disse «Beh, se l'amico Nick riuscirà a costruire una cosa che possa volare nell'aria da questo ammasso di rifiuti e riuscirà a portarci in salvo, allora lo riterrò un meccanico migliore di quanto potessi immaginare.» Ma in un primo momento il boscaiolo di latta non sembrò affatto sicuro delle proprie capacità e solo dopo essersi lustrato vigorosamente le sopracciglia con una pelle di camoscio decise di mettersi all'opera. «La prima cosa necessaria per la macchina», disse, «è un corpo abbastanza grande per sostenerci tutti. Il sofà è la cosa più grande che abbiamo e potrebbe essere usato come corpo, ma se la macchina si inclinasse di lato scivoleremmo e cadremo tutti di sotto.» «Perché non usiamo due sofà?» chiese Tip. «Ce n'è un altro identico a questo.» «È un suggerimento ragionevole», esclamò il boscaiolo di latta. «Corri a prendere l'altro sofà.» Così Tip e il cavalletto riuscirono con molta fatica a portare il secondo sofà sul tetto e quando i due pezzi furono messi assieme, fianco a fianco, braccioli e schienali formarono tutti intorno a un'unica sponda che riparava i posti a sedere. «Eccellente!» gridò lo spaventapasseri. «Potremmo volare tranquillamente su questo comodo nido.» I due sofà furono poi legati stretti insieme con le corde e Nick Chopper fissò un'estremità alla testa dell'alce. «Questa ci mostrerà qual è la prua della cosa», disse compiaciuto dall'idea. «E veramente, se l'esaminate attentamente, l'alce sembra proprio una polena. Le grandi foglie di palma per le quali ho messo in pericolo la mia vita per ben sette volte ci serviranno da ali.» «Sono abbastanza resistenti?» chiese il ragazzino. «Lo sono come qualsiasi altra cosa che potremmo trovare», rispose il boscaiolo. «E sebbene non siano proporzionate al corpo della cosa, non possiamo permetterci di essere pignoli.» Così attaccò le foglie di palma ai sofà, due per ogni lato. La cimice disse con grande ammirazione. «La cosa ora è completa, manca solo che le venga data la vita.» «Aspettate un attimino», esclamò Jack. «Non usate la mia scopa?» «Ebbè, per cosa?» chiese lo spaventapasseri. «Beh, potrebbe essere legata a poppa e fare da coda», disse a testa di zucca. «Non vorrete dire che la cosa è completa senza coda?» «Hm», disse il boscaiolo di latta. «Non vedo la necessità di una coda. Non stiamo cercando di copiare un animale, pesce o uccello che sia. Tutto ciò che chiediamo alla cosa è di trasportarci nell'aria.» «Forse quando la cosa sarà viva potrà servirla da timone», suggerì lo spaventapasseri. «Perché se volerà nell'aria non sarà diversa da un uccello, e io ho notato che tutti gli uccelli hanno la coda e che la usano come timone mentre volano.» «Molto bene», rispose Nick. «La scopa sarà usata come coda», e la legò alla poppa del sofà. Tip tirò fuori dalla tasca il macinino. «La cosa è molto grande», disse preoccupato, «e io non sono sicuro che sia rimasta abbastanza polvere per farla vivere tutta, ma farò il possibile.» «Mai tieni di più sulle ali», disse Nick Chopper, «perché dovranno essere molto forti.» «E non dimenticare la testa», disse la cimice. «O la coda», aggiunse Testa di Zucca. «State calmi», disse Tip nervoso, «datemi la possibilità di fare l'incantesimo nel modo giusto.» Con molta cautela cominciò a cospargere la cosa con la preziosa polvere. Per prima cosa furono ricoperte da uno strato leggero di polvere le quattro ali, poi toccò ai due sofà e infine alla coda. «La testa, la testa, non dimenticare la testa, ti prego», gridò eccitata la cimice. «E è rimasta solo un po' di polvere», annunciò Tip guardando dentro il macinino. «Mi sembra più importante far vivere le gambe piuttosto che la testa.» «Non è così», decise lo spaventapasseri. «Qualsiasi cosa deve avere una testa che la diriga, e poiché questa creatura dovrà volare e non camminare, ha veramente poca importanza che le sue gambe siano vive oppure no.» Così Tip si attenne a questa decisione e sparse la polvere rimasta sulla testa dell'alce. «Ora», disse, «fate silenzio mentre si compie l'incantesimo.» Avendo sentito la vecchia mombi pronunciare le parole magiche ed essendo riuscito a portare in vita il cavalletto, Tip non esitò un istante a dire le tre parole magiche, ognuna accompagnata dal caratteristico gesto delle mani. Fu una cerimonia solenne e di grande effetto. Quando ebbe concluso l'incantesimo, la cosa rabbrividì in tutta la sua mole. L'alce emise il verso tipico della specie e poi cominciò a sbattere forse innatamente le quattro ali. Tip riuscì ad aggrapparsi a un camino, altrimenti sarebbe volato giù dal tetto, portato via dal terribile vento alzato dalle ali. Lo spaventapasseri, essendo leggero, fu alzato e fatto volteggiare nell'aria fino a quando, fortunatamente, Tip riuscì ad afferrarlo per una gamba e lo tenne stretto. La cimice rimase stesa sul pavimento del tetto e non subì alcun danno, e il boscaioro di latta, che per il peso della latta rimase ancorato a terra, gettò entrambe le braccia intorno a Jack Tester di zucca e riuscì a salvarlo. Il cavalletto fu rovesciato a gambe all'aria e così giacquò impotente. Quindi, mentre erano tutti indaffarati a rimettersi in sesto, la cosa si alzò dolcemente dal tetto e cominciò a volare. «Ehi, vieni qui!» gridò Tip con voce spaventata, mentre con una mano si teneva aggrappato al camino e con l'altra teneva stretto lo spaventapasseri. «Torna subito indietro! Te lo ordino!» Fu in quel momento che la saggezza dello spaventapasseri, nell'aver suggerito di dar vita alla testa della cosa e non alle sue zampe, fu provata oltre ogni dubbio, perché l'alce, già alto nel cielo, voltò la testa quando di l'ordine di Tip e gradatamente, compiendo ampi cerchi nel cielo, si riavvicinò al tetto del palazzo. «Torna indietro!» gridò di nuovo il ragazzo e l'alce obbidì, sbattendo piano le quattro ali nell'aria. Poi la cosa si posò sul tetto e si fermò.